Ragazzi buonasera a tutti bentornati su Crypto Salad qui Federico è il 20 novembre 2023 bitcoin 37.400 dollari in questo momento ragazzi guardiamo il time frame giornaliero vediamo come si è modificata la situazione con l'evoluzione degli ultimi giorni guardiamo alcune chart di altcoin contro bitcoin per vedere quale potrebbe essere l'evoluzione nei prossimi mesi e poi ragazzi guardiamo nel dettaglio quelli che sono le fasi che ci porteranno a l'alving di bitcoin il prossimo aprile quindi se vi sembra interessante lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche lasciate i vostri messaggi trovate in descrizione dei referral link da utilizzare se voleste sostenere il canale Ragazzi iniziamo a guardare bitcoin dicevamo time frame giornaliero 37.500 in questo momento abbiamo avuto un weekend positivo anche con la giornata odierna sicuramente positiva anche con bitcoin che trascina anche in verde le altcoin con un diciamo abbassamento della dominance che va a favorire le altcoin vediamo che bitcoin sta fronteggiando ancora la resistenza importante del della resistenza numero uno del mese di novembre quindi sappiamo che il livello che bitcoin deve violare con eventualmente delle chiusure è il livello dei 37.800 dollari quindi bitcoin sta testando per la terza volta consecutiva la resistenza numero uno del mese in zona più o meno 37.700 quindi vediamo se bitcoin riuscirà a violare questa resistenza che verrà eventualmente confermata da una chiusura o eventualmente anche più chiusure ancora meglio al di sopra del livello dei 37.800 dollari o altrimenti vediamo se questo si rivelerà un triplo massimo che potrebbe essere confermato solo se andremo a violare questo minimo registrato a 34.800 dollari quindi vediamo un po' come si comporterà il prezzo vi ricordo che il prossimo target rialzista numero due del mese è 40.800 dollari quindi vediamo se bitcoin arriverà anche a questo target vi ricordo che oltre ad essere sotto ovviamente la resistenza stiamo disegnando delle divergenze ribassiste diciamo sempre più evidenti sul time frame giornaliero che comunque non necessariamente devono indicarci un ritracciamento immediato ma nel medio termine quasi certamente spiegheranno i suoi effetti con un raffreddamento di bitcoin quindi vedete chiaramente che adesso abbiamo in prossimità della resistenza un raffreddamento dell'RSI quindi tra i massimi equivalenti con un RSI che mostra invece dei lower high quindi dei massimi uno sempre più basso del precedente quindi c'è una debolezza del prezzo in prossimità della resistenza quindi sicuramente aprire una posizione long in questo momento potrebbe essere non particolarmente entusiasmante in termini di rischio rendimento ma vediamo un po' come si comporterà il prezzo non facciamoci eventualmente sorprendere da una deviazione e poi un rientro al di sotto della resistenza fatemi sapere cosa ne pensate voi a riguardo sicuramente c'è un interessante trend line per cui proprio semplicemente se vogliamo individuare una trend line che eventualmente se violata confermerebbe l'inizio di un downtrend potremmo tracciare sicuramente questa trend line quindi se bitcoin scendesse al di sotto di questa trend line probabilmente sarebbe la conferma della fine dell'up trend e l'inizio di un prolungato raffreddamento dopo i mesi rialzisti di ottobre e di novembre vi ricordo che il target diciamo pre halving che a mio avviso verrà rispettato come resistenza è il target dei 47 bar a 49 mila dollari quindi non mi aspetterei in ogni caso di vedere bitcoin sopra i 47 bar a 49 mila prima dell'halving in arrivo a aprile prossimo anche su questo fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi poi guardiamo tre altcoin che secondo me potrebbero aver raggiunto il bottom se confrontate contro bitcoin quindi il per dot contro btc vedete che abbiamo raggiunto il minimo praticamente fatto ad agosto 2020 quindi a distanza di più o meno tre anni e quindi a distanza di più o meno tre anni e mezzo dot ritocca lo stesso minimo contro il per btc quindi chissà che questo possa essere l'inizio di un uptrend per dot dopo un prolungato downtrend anche diciamo cardano sicuramente una delle altcoin con il maggiore hype durante il bull market anche qui un prolungato downtrend per cardano chissà che anche qui si possa vedere con questa diciamo doppio minimo con divergenza eventualmente l'inizio di un uptrend per cardano vi ricordo che le altcoin tendenzialmente vanno ad outperformare bitcoin dopo l'halving vedete chiaramente come da maggio 2020 cardano abbia outperformato la chart di bitcoin dopo in particolare la data dell'halving a maggio 2020 lo stesso per esempio vale per un'altra altcoin storica sto parlando di v chain anche qui vedete chiaramente come abbiamo un prolungato downtrend di v chain contro bitcoin ma plausibilmente a partire dall'halving o comunque da qualche mese precedente potremmo aspettarci una outperformance di v chain rispetto a bitcoin esattamente come è accaduto nel maggio 2020 fino al maggio 2021 quindi abbiamo avuto in questo caso un anno di outperformance chiara di v chain contro contro bitcoin se non sbaglio in ultimo ragazzi con l'aiuto di un tweet da parte di rect capital andiamo ad analizzare quelle che sono le fasi nel dettaglio che ci accompagnano all'halving di bitcoin come dicevamo in arrivo tra 5 mesi all'incirca quindi lui dice che abbiamo una fase di pre-halving quindi il pre-halving period che è una fase che dura approssimativamente 5 mesi prima dell'halving ed è una fase in cui se ovviamente si va ad accumulare altcoin e bitcoin si ottengono buoni ritorni sull'investimento dopo diversi mesi rispetto all'halving e bene o male già questo lo sapevamo poi lui va più nel dettaglio quindi va a sezionare in maniera più granulare quelle che sono le fasi che ci accompagnano all'halving diciamo che individua una fase pre-halving con un rally quindi una salita più o meno a 60 giorni dall'halving che più o meno sarebbe intorno a febbraio prossimo poi abbiamo un ritracciamento che dovrebbe arrivare in prossimità dell'halving quindi nelle giornate dell'halving potremmo assistere ad un ritracciamento diciamo che nelle ultime due occasioni abbiamo visto un meno 38% nel 2016 e un meno 20% nel 2020 e poi una fase di riaccumulazione dopo l'halving prima dell'up trend diciamo parabolico quindi dopo l'halving si assiste ad una fase di sostanziale bassa volatilità dei prezzi quindi una fase di noia in cui si va a riaccumulare prima della fase parabolica quindi dopo l'halving si potrebbe assistere ad una fase che durerà anche dei mesi dove praticamente si va a riaccumulare in attesa dell'up trend che poi potrebbe arrivare magari a 6 mesi dalla data dell'halving quindi ragazzi per oggi è tutto spero che sia stato chiaro fatemi sapere cosa ne pensate grazie per la vostra attenzione noi ci vediamo al prossimo episodio ciao